Il Como riceve nuovi acquisti per affrontare la Serie A 2024-2025. Hanno reclutato l'esperto difensore Raphael Varane. Citato dal sito ufficiale del club, Varane è stato contratto a titolo gratuito dopo la fine della sua permanenza al Manchester United quest'estate. La durata è di due anni con possibilità di proroga per un anno. Varane è stato al ritiro precampionato del Como in Austria da domenica, 28 settimi, prima che fosse finalmente ufficializzato. Ha incontrato Cesc Fabregas e Ossian Roberts come coppia di allenatori, così come i suoi nuovi compagni di squadra. Il Como 1907 è lieto di annunciare l'arrivo del difensore francese Raphael Varane dal Manchester United con un contratto di due anni, con opzione di rinnovo per un anno, si legge in un comunicato del Como. Conosciuto come uno dei migliori difensori del suo tempo, Varane ha vinto tre titoli la Liga e quattro Champions League mentre era al Real Madrid. Il campione del mondo 2018 ha anche aiutato il Manchester United a vincere il suo primo trofeo negli ultimi sei anni, ovvero la Carabao Cup 2023 e la FA Cup 2024 a Wembley. Varane è il quarto acquisto gratuito del Como quest'estate dopo Pepe Reina, Alberto Moreno e Ali Yassin. Serve una squadra forte dopo la promozione in Serie A.